Andiamo alla postarella a consegnare al protocollo, andiamo? Sì, dov'è Luigi? No, Luigi, dov'è Stefano? Scusate, facciamo l'ultimo atto. Tu non l'hai firmato? Eh, però me l'abbiamo scannerizzato. Vabbè, c'eri? Andiamo, Anna. Lo mettiamo dentro i fogli, non è che non c'è niente, è giusto dentro? Sì, lo so, tesoro, ma credici, credici? Pronti? Dov'è il funzionario? Ci deve accompagnare? No, no, no. Tu hai fatto la tua firma, come hai fatto un'altra volta? No, diciamo andiamo a postarella e ti faccio il protocollo. Io faccio le fotocopie così... Grazie, grazie. Tu hai fatto i documenti per le fotocopie un'altra volta, sì? Sì, il mio, il mio. Tieni. Tieni, me lo metti sopra, per favore. Eh? Lo metti sopra? Mi sembra queste delle camera accende, tua mamma. Ormai hanno fatto tutto? Ah, ritorniamo dall'altra parte, per piacere. Eh, dobbiamo andare di là. Dobbiamo andare a postarella, si accompagna lui. Non ci hanno detto. Quattro? Quattro. Ti riprende? Sì. In totale siamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ma come l'altra volta? Come l'altra volta? Come l'altra volta? Come l'altra volta? Ci ha accompagnato? Ah, ok. Non c'ero l'altra volta. Sì, ci ha accompagnato. Sì, ci ha accompagnato. Beh, era con due altri facenti funzioni. Sì, forse vengono anche loro. Sette, otto, nove, dieci. Ma loro vengono solo magari. Sì, è giusto anche loro. Dieci. Non gli facciamo niente, giuro. Si fida? Ma lui ci sta solo accompagnando. Siamo noi che andiamo. ci sia già apposta. Cosa tu hai messo? Tre neppure? Tre. Tu hai messo. Tre neppure? Tre neppure le stifo. perché uno viene da ... Vabbè, tra lì che si chiama il nome del funcionario qua. C'è da Luigi. C'è da Luigi. C'è da Luigi? È tanto il giro passato. Lui è a destra. No, la domanda è stata spontanea Mi tiene che il cazzo ha scopo Che non si fa accettare Ma tu, allora adesso io ve la dico Secondo te Secondo te questi Ci ricevevano con tutti questi testimoni Specificamente Computer Ricomincia Secondo te questi del Rotary Club Ci ricevevano con tutta questa gente Di fuori di testimonianza